un crongiolo di razze, perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona, bianchi, neri, ma siamo tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un fil di Nanni Moretti? Siamo in un fil di Nanni Moretti? Siamo in un fil di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti? Io offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale, paese industriale. Noi italiani siamo fatti così, rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rosso e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo. Te lo meriti, Alberto Sordi. Ciao. Te lo meriti, Alberto Sordi? Sordi!